Mi è sembrata molto efficace la scelta della CIS dell'Emilia Romagna di far parlare a questa assemblea organizzativa i delegati e gli operatori. Credo che la vera svolta che noi dobbiamo dare al sindacato per sburocratizzarlo è quello di dare più forza, più valore a chi ci rappresenta tutti i giorni nei luoghi di lavoro, siano essi l'industria, siano i privati, i pubblichi impiego, siano i servizi. Quindi una scelta lungimirante che farà crescere sicuramente ancora l'orgoglio di essere Cislini in questa regione.